Un mega salutone amici di informatica semplice, praticamente questo è il primo video di questo genere che faccio, sia anche per il gruppo che in generale. Praticamente ieri, superoffertissima epifania da Euronics, era presente l'LGG3, che io stesso ho sconsigliato tantissime volte. Praticamente, l'LGG3 a 399 è un buonissimo terminale, al contrario di quello che io stesso ho detto e di quello che si legge in giro. Allora, Euronics è affertissima, 399, più un buono da 25€, quindi ottimo, direi proprio ottimo. E ora vi spiego subito perché è ottimo. Allora, LGG3, queste sono le prime impressioni a caldo. Preinstallato c'era la prima versione di KitKat, col brand 3 schifo. Proprio impuntamenti, lag, apertura applicazioni lentissima, multitasking, ciao ti saluto domani ci vediamo. E allora, ho messo, ho flashato l'Hollipop, la V20C, versione software, che guadagna praticamente, diventa un altro telefono. Tutto diverso, tutto molto bello. Allora, andiamo subito a vedere, si accende ovviamente col doppio tap, com'è? Eh, che cazzo. Ok, sì, è un po' prestino, io mi sono sbagliato alle 6, comunque. E allora, andiamo a vedere subito. La prima cosa che dobbiamo andare ad analizzare è la fluidità, la stabilità di sistema, che prima non era minimamente presente, proprio non c'era, non c'era stabilità. L'applicazione di lente, tutto, tutto, gestione della RAM schifosa. Adesso, con l'Hollipop, il cellulare, prende lo smartphone, prende altra vita. Io ho sconsigliato tantissime volte l'LGG3, proprio per quello, per quello che succedeva su KitKat, sulle prime versioni, anche perché le ultime versioni di KitKat sull'LGG3 girano piuttosto bene. Con l'Hollipop si è risalto. Allora, andiamo subito a vedere. Scendiamo, sblocchiamo il dispositivo. E andiamo a vedere che, subito, l'interfaccia risulta molto, molto fluida. Allora. Vedete quanto è bella la tendina e le notifiche di Lollipop? Mi piace proprio tantissimo. Allora, andiamo a vedere subito. Allora, visto che sono le prime impressioni a caldo, partiamo dalla fluidità. Andiamo subito a vedere come apre le applicazioni. Istantanea. Le carichiamo mentre è in RAM. Così vi faccio vedere il multitasking. Dove conviene. Keep Premone un po'. Play Store YouTube Dai, apri. YouTube, sì, non capisco perché. YouTube è sempre lento. Ma questo succede solo quando la mia connessione va male. Mi sembra anche ovvio. E poi, cosa molto importante per molti, è La velocità di apertura della fotocamera è la qualità degli scatti. Che il Lollipop sembra, in quanto a velocità di apertura, guadagna moltissimo. In quanto a scatti, in dettaglio, guadagna qualcosina, soprattutto in condizioni di luce più bassa, qualcosina. I scatti vengono leggermente più definiti. Allora, subito andiamo a vedere l'apertura della fotocamera. Sentite il tocco e guardate l'apertura. Istantanea. Non ci pensa minimamente. Allora, andiamo subito a fare uno scatto di prova. Bello accendino. Vieni qui. Mettiamo a fuoco. E qui. Sbagliato l'ho messo a fuoco che io non vedo dall'inguadratura. Dai. Ecco. Ok, via. Andiamo subito a vedere lo scatto. Praticamente lo scatto velocissimo. Messa a fuoco rapida, laser, anche in condizioni di bassa luce. Allora, succede questo. Il mio Galaxy Note 4, con bassissima luce, non riesce bene a mettere a fuoco. Proprio non ci riesce. Devo utilizzare per forza il flash. LGG3 riesce a mettere a fuoco grazie al sensore laser. E ci riesce anche al buio, direi, anche se non si riesce a vedere. Comunque ci riesce sempre bene. Andiamo ad analizzare lo scatto. Vedete quanto la foto sia piena di dettagli? Anche se non c'è moltissima luce o una lampada, ma non è chissà cosa. E praticamente vengono... Eh sì, vengono dei belli scatti. Allora, andiamo a vedere la velocità di scrolling delle immagini della galleria. Andiamo subito così. Potete vedere quanto sia fluido e non si impalla, come succedeva prima con KitKat. Andiamo... Allora, vediamo lo scrolling velocissimo. Segue proprio il dito. Questa è la mia cagnolina. Andiamo a vedere che anche come sfoca lo sfondo non è moltissimo. A questa distanza l'effetto bokeh non è presentissimo. Ma comunque gli scatti sono molto buoni. L'effetto sbocatura è presente, ovviamente. Questa è la foto col flash. Col flash ovviamente riesce a prendere più dettagli. Vedete come segue il dito. Molto, molto, molto fluido. Li vale assolutamente 399 euro. Se riuscite a prenderlo a questo prezzo sono quasi sicuro che oltre allo Z3 Compact non riuscite a prendere di meglio. Facciamo qui. Adesso la cosa che andiamo subito a vedere è la potenza dello speaker. Che nelle recensioni non viene detto. E su carta non viene segnalato. perché praticamente lo speaker dell'LG G4 è più potente dello speaker del Note 4. E sono presenti i medi che sul Note 4 sono assenti. Senti solo gli altri. Senti tss tss tss. Anche se il volume è abbastanza alto. Però questo non ti permette di sentire forte l'audio quando ci sono rumori di fondo. Adesso andiamo a sentire una prova. Tanto per farvi capire. Ecco, già avevo fatto la mia ricerca. Sì, dove sto andando? Va bene. E c'è fuoco. Avete mai la sensazione che ci sia un modo per parlare con qualcuno a cui vuoi bene anche dopo morto? Vorresti parlare con Debbie? Ok. Shipping Mixes. Amici di Informatica Assembly. Dai. Voglio un pezzettino. La speaker è qui in basso. Pulsando sono retro. Sensore laser. Flash doppio tono. E la fotocamera. Tenite quante forze l'audio. Mi piace proprio tantissimo. In minuto e quattro che io leggendo le specifiche tecniche guardando altre recensioni cioè mi sembrava audio potentissimo. No, non è vero. Invece le LG C3 suona più forte e anche meglio. E allora cosa stavo facendo vedere? Allora Adesso andiamo a guardare bene il design che è curatissimo da LG su questo G3. Abbiamo il ring cromato sulla fotocamera che mi piace tantissimo. Tutto più o meno cromato curato bene. Questo è il sensore laser dicevo il il flash doppio tono anche se mi aspettavo di meglio dal flash doppio tono praticamente i colori un po' li appiattisce lo stesso. Però in generale risultano migliori le foto scattate da molti altri terminali questo non c'entra chiudiamo la mettiamo a fuoco allora adesso andiamo a vedere la fluidità della navigazione che la fluidità della navigazione è completamente un'altra cosa e soprattutto il feedback della tastiera che mi piace tantissimo riesce è istantanea e mi piace il tick che fa la tastiera quando vibra non è fortissimo è un leggerissimo tick piacevole allora scriviamo tipo andiamo su un sito prova tipo pesantuccio repubblica ovviamente apre la versione mobile furbacchione vediamo se mi da la desktop vista desktop dai dammi la vista desktop ok Renzi andiamo a vedere la fluidità di navigazione e sta ancora caricando quindi il sistema in generale è più appesantito vediamo che è fluidissimo ecco adesso sta ricaricando non ho capito perché ah si c'è una notizia in più ah no ho aperto la notizia ho sbagliato comunque andiamo a vedere mentre sta ricaricando no in generale quasi tutti i terminali nel caricamento non sono fluidi quando eh basta porca miseria in generale dicevo i terminali non sono quando stanno caricando la pagina non sono fluidissimi come quando la pagina è carica vediamo che è molto 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 fluido in quanto a ricaricamenti nella pagina c'è una leggerissima un leggerissimo ricaricamento ok aspettate vi faccio vedere bene cosa volevo dire faccio velocissimo un pinch out e vedete un ricaricamento qui della pagina vediamo no non succede non succede più no no questo succede forse quando la pagina non è ancora caricata bene sì sì infatti fluidità buonissima ovviamente io non capisco chi è che va a fare pinch out pinching a questa velocità è assurdo guardate è fluidissimo non c'è che dire ok adesso andiamo a vedere multitasking multitasking in lollipop lo amo andesimulti non può piacere vediamo quanto è fluido vedete quanto sia fluido lo scorrimento delle varie finestre possiamo chiuderle oppure possiamo cancellarle tutte cioè le killiamo tutte kill ok ragazzi adesso faccio una piccola prova ok google che ore sono in giappone vediamo a giappone sono le ore 16 e 48 minuti ecco questa è sempre l'annunciatrice dell'idol comunque devo dire che google now mi piace tantissimo è veramente ben fatta la ricerca anche se il sintetizzatore vocale non è molto realistico ma ovviamente è possibile cambiarlo sì allora io concludo qui amici informatica semplice questa impressione a caldo durate un pochetto spero che il video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia utile perché ascoltatemi se lo acquistate che il terminale vi piace ma siete frenati dai cazzini feedback dagli utenti che hanno avuto kitkat che diciamo è lento è lento lo era lento faceva schifo si impuntava gestione della RAM malissima problemi di ricezione ecco tutto questo non si ripresenta più con l'Hollipop già non succedeva più con le ultime versioni del software kitkat che aveva rilasciato LG comunque con l'Hollipop prende altra vita possiamo spegnere lo schermo con un doppio tap sullo schermo in desktop nella home allora amici informatica semplice io vi saluto qui spero che il video vi sia stato utile è il primo che faccio magari ne faccio altri adesso lo faccio anche su Note 4 per farvi vedere in generale la fluidità di sistema un salutone grazie a tutti